La 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 Non ci siamo! Insomma dicembre alle porte, il Natale sta arrivando! Quest'anno è il 2020, deve essere un Natale speciale per tutti quanti e soprattutto per tutti i bambini. Deve essere un Natale magnifico, deve essere un Natale fantastico, ma per fare questo ho bisogno dei miei Elfi. Dichiamo subito. Dunque, 7, 8? E 5, 6, 7, 8! No, lo sapevo che stavi ballando. Bignè? Lo sapevo che stavi impastando qualcosa. Brillantina? Eccomi, eccomi! Fantastica, ogni volta che passa lei lascia sempre una scia di brillantini e adesso tocca a lui. Speriamo che non stia facendo qualche danno. Cortocircuito! Aia, aia, ci sono! Eccoci qua. Bene, vi ho chiamato perché quest'anno più di ogni altro anno ho bisogno del vostro aiuto. Ho bisogno di idee, ho bisogno di idee speciali, devono essere delle idee fantastiche, devono essere delle idee ritmate, devono essere delle idee zuccherate, devono essere delle idee anche un po' elettriche, insomma devono essere delle idee natalose! Brillantini! Ho avuto un'idea natalosa! Canteremo una canzone super brillantinata per portare tanta gioia e brillantini a tutti i bambini del mondo! Sì, sì! Sì, 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 sì! Forza, andiamo! Verde rosso è l'agrifoglio! Fa la 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 la! Quanta gioia in un germoglio! Fa la 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 la! Questo giorno è speciale! Fa la 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 la! Su, cantiamo, è Natale! Fa la 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 la! Sì, sì, sì! Non basta! Non basta! Non basta, ci vuole un'altra idea! Ci vuole un'idea, come vi dicevo, un'idea anche un po' bizzarra! Ci vuole un'idea natalosa! !